Cos'è esattamente il calore? Quando è che andrà in calore la mia gatta? E come farò a capirlo? Vediamo insieme tutto ciò che riguarda il calore della gatta. Ma prima di iniziare mi presento, sono Ilaria. Dal 2014 mi dedico ai gattini neonati orfani. Sono esperta in comportamento del gatto e promuovo la conoscenza del mondo felino. Se vuoi restare sempre aggiornato, iscriviti al mio canale. Puoi inoltre trovare molti articoli sul mondo dei gattini nel mio blog. Il link è in descrizione. Ho accolto l'occasione di parlarti del calore perché la piccola Soraia, una gattina che ho ospitato da poco, ha sorpreso tutti noi. È entrata in calore a soli 3 mesi e mezzo di età e con un peso di 1,9 kg. Ma infatti spesso mi sento dire, non pensavo che la mia gattina potesse andare in calore già così piccola. Ma cos'è il calore? Il calore è quel periodo e quell'insieme di manifestazioni che mette in atto una gatta per dimostrare che è fertile e pronta ad accoppiarsi. Il calore riguarda solo le femmine? I maschi non vanno in calore? Il calore corrisponde in realtà a una fase del ciclo riproduttivo della gatta, che si chiama estro. I gatti maschi al contrario sono sempre pronti all'accoppiamento se c'è una gatta disponibile. I comportamenti, quali girovagare in cerca di una femmina o combattere con altri maschi, sono correlati al richiamo che esercitano su di loro le gatte femmine in calore. Ma allora quando vanno in calore le gatte? La gatta è una poliestrale stagionale. Significa che ha vari calori, uno dopo l'altro, che avvengono durante la stagione riproduttiva. La stagione riproduttiva va dalla fine dell'inverno all'autunno successivo. Questo ciclo di calori si interrompe solo se la gatta inizia una gravidanza e durante i mesi invernali, tra novembre e gennaio. Generalmente nell'anno il primo calore della gatta avviene a gennaio-febbraio, quando aumentano le ore di luce giornaliere. A che età va in calore la prima volta una gattina? La gattina normalmente raggiunge la pubertà entrando in calore per la prima volta tra i 5 e i 9 mesi, ma ci sono dei fattori che possono portare a una variazione di questo range. Le gatte a pelo corto infatti maturano sessualmente prima delle gatte a pelo lungo. L'età in cui entra in calore spesso dipende da quando è nata la gattina. Una gattina nata il primo maggio sarebbe matura a circa 6 mesi di età, ovvero a ottobre, ma in questo periodo le ore di luce si riducono e si avvicina alla pausa riproduttiva invernale. Questa gattina potrebbe quindi andare in calore a ottobre, ma potrebbe anche affrontare il suo primo calore a gennaio-febbraio, ovvero a circa 9 mesi di età. Diversamente, se una gattina è nata il primo ottobre, può entrare in calore a soli 4 mesi, poiché con l'allungarsi delle ore di luce giornaliere il suo ciclo riproduttivo viene risvegliato. Quali sono i sintomi del calore, ovvero come si manifesta il calore? Durante la fase di estro, quello che comunemente chiamiamo il calore, la gatta ha dei comportamenti caratteristici inequivocabili. Fa continuamente le fusa, diventa molto affettuosa con strofinamenti e rotolamenti, desidera a ogni costo uscire, e assume la classica postura con il sedere all'insù e le zambe anteriori abbassate, spostando la coda da un lato e spesso cammina sul posto con le zambe posteriori, pur rimanendo accovacciata. Un altro aspetto caratterizzante è che vocalizza continuamente e intensamente, in modo particolare la notte. Talvolta la gatta in calore spruzza urina e marca il territorio. Difficilmente invece potremo notare delle perdite, per via della meticolosa pulizia della gatta. Il ciclo riproduttivo della gatta si compone di 5 fasi. Il proestro, durante il quale la gatta esercita una forte attrazione nel maschio, ma non gli permette ancora di accoppiarsi. Nella gatta non si notano cambiamenti nel suo comportamento. L'estro è il cosiddetto calore, con tutte le sue tipiche manifestazioni comportamentali, e dura circa 9 giorni, ma può arrivare a durare fino a 24 giorni. La gatta desidera accoppiarsi e cercherà in tutti i modi i maschi. In questa fase la gatta può accoppiarsi più volte, sia con il medesimo maschio che con gatti diversi. Una stessa cucciolata potrebbe quindi avere padri differenti. Interestro. Se la gatta non si è accoppiata e quindi non ha ovulato, entrerà in una fase di riposo, che dura in media una settimana, durante la quale non sarà interessata ai gatti maschi e non avrà nessun comportamento tipico del calore. In alcune gatte, però, l'interestro è così breve che il proprietario può avere l'impressione che la gatta sia continuamente in calore. Il diestro. Il diestro inizia se la gatta si è accoppiata ed è avvenuta l'ovulazione e la fecondazione, ovvero è iniziata una gravidanza. La gravidanza della gatta dura circa due mesi e la gatta può tornare in calore dopo due settimane dal parto, come è successo anche a me con Camilla, la gatta che vedete in questa foto. Nonostante avesse quattro gattini da allattare, dopo 15 giorni dal parto aveva già iniziato un nuovo calore. In genere le gatte tornano in calore tra le due e le sette settimane dopo la nascita dei loro piccoli. Se la gatta ha ovulato ma non si è instaurata una gravidanza, ci sarà il cosiddetto diestro non gravidico, che può essere definito anche falsa gravidanza o pseudogravidanza. Nella gatta, salvo rari casi, questa fase non presenta alcun cambiamento significativo, come avviene invece nelle cagnette. La naestro è il periodo di pausa del ciclo riproduttivo ed è determinato dal fotoperiodo, ovvero la diminuzione delle ore di luce giornaliere. La stagione riproduttiva dei gatti quindi ha una pausa invernale che è compresa tra ottobre e gennaio, di circa 3-4 mesi. In questo periodo la gatta non attrae il maschio e non ha cambiamenti caratteriali. Se la gatta vive solo in casa, esposta costantemente alla luce artificiale, può capitare che non avvenga la fase di a naestro, ovvero la pausa riproduttiva invernale, e quindi abbia continuamente dei calori. Che rimedi ci sono quando una gatta è in calore? Convivere per una decina di giorni con una gatta in calore non è un'esperienza semplice, anzi talvolta diventa letteralmente insopportabile, soprattutto per l'insistenza e l'intensità di alcune sue manifestazioni. Come ti dicevo prima, se la gatta non si accoppia durante il calore, questo si ripresenta ogni 15 giorni circa o anche prima. È difficile, molto difficile, calmare una gatta in calore e qualsiasi espediente è solo temporaneo. La gatta è spinta da un istinto primordiale a riprodursi e diventa molto irritabile quando non ha la possibilità di accoppiarsi. Ti riporto alcuni consigli utili per calmare una gatta in calore, anche se per mia esperienza personale si tratta solo di rimedi che funzionano in modo molto blando e nemmeno con tutte le gatte. Primo consiglio, Tienela lontana da eventuali maschi presenti, separandola anche fisicamente, oscurando le finestre nel caso potesse vedere la loro presenza all'esterno di casa. La vicinanza dei maschi la agita ancora di più. Numero 2 Metti a disposizione una borsa dell'acqua calda sopra la quale possa covacciarsi. Prova a utilizzare il Feliway, sebbene non sia di immediato effetto. Contatta il tuo veterinario per farti consigliare un eventuale supporto omeopatico o erboristico. La gatta tende a marcare di urina la casa per attirare i maschi. In questo caso pulisci immediatamente con acqua e detersivo senza usare ammoniaca e non sgridarla mai perché aumenteresti solo la sua irritabilità e comunque lei non ne capirebbe il motivo. Mantieni la sua lettiera molto pulita. Un ottimo espediente è quello di giocare con lei distraendola un po' dai suoi intenti. Se abituata puoi anche spazzolarla nella parte bassa della schiena o fare le coccole proprio lì. Mi hanno chiesto Ma a me ti aspetto l'appuntamento dal veterinario? Lascio che si accoppi, tanto poi sarà sterilizzata. Io ti sconsiglio fortemente questa opzione. Durante l'accoppiamento la gatta è esposta a un elevato rischio di contrarre malattie gravissime, ovvero FIV e FELV. FIV è l'immunodeficienza felina e FELV è la leucemia felina. Queste due malattie si possono trasmettere sia per via sessuale sia attraverso i morsi profondi. L'accoppiamento dei gatti è spesso roccambolesco susseguendosi di atti aggressivi tra il maschio e la femmina. Quindi queste malattie hanno una duplice possibilità di essere contratte. Lasciare che la gatta si accoppi con gatti maschi che non conosci o che non sono stati testati recentemente per FIV e FELV la espone a rischi molto alti per la sua salute. Se quindi hai visto che la tua gatta si è già accoppiata ti consiglio di riferirlo al veterinario per valutare quando effettuare il test per FIV e FELV. Il vaccino per la FELV non è effettuato come vaccino basilare ma va espressamente richiesto come vaccino extra. Se non sei sicuro su quale vaccino ha eseguito la gatta contatta il tuo veterinario e non esiste invece alcun vaccino per la FIV. Ricorda inoltre che la gatta non segue le nostre regole comportamentali sull'accoppiamento e quindi se avrà a disposizione solo suo fratello o suo padre per accoppiarsi si accoppierà anche con loro. Sterilizzare una gatta significa quindi amarla e proteggerla. È il miglior modo per evitare tutte le manifestazioni del calore e naturalmente le gravidanze indesiderate. La sterilizzazione può essere effettuata in qualunque momento del ciclo riproduttivo. Puoi contattare il tuo veterinario per tutte le informazioni relative alla sterilizzazione e puoi anche guardare il mio video dedicato a questo argomento. Ma una gatta può tornare in calore dopo la sterilizzazione? Beh, se la gatta dovesse tornare in calore è necessario ricontattare il veterinario che ha eseguito l'operazione. Bisogna comprendere quale possa essere il problema. Per una soluzione definitiva bisogna tornare a intervenire chirurgicamente. Concludendo ti ricordo infine che non c'è nessun fondamento scientifico nel dire che sia preferibile far fare la gatta almeno un calore o addirittura almeno una cucciolata prima di farla sterilizzare. Anzi, le tese mediche sono tutte a favore di una sterilizzazione precoce. Spero di avere risposto alle tue domande e ai tuoi dubbi con questo video ma se hai altre curiosità scrivimela nei commenti sarò felice di risponderti. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai già fatto seguimi anche sul mio blog dove trovi tantissimi articoli tutti dedicati al mondo dei gattini e puoi trovarmi anche su Facebook e Instagram dove tutti i giorni pubblico consigli utili. Ricorda, insieme possiamo salvare sempre meglio, sempre più gattini. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!